Se c'è una cosa fondamentale da sapere che riguarda i mercati finanziari è che questi seguono dei cicli C'è sempre una fase di espansione che piano piano arriva in cima nel suo picco massimo e poi inizia una discesa più o meno repentina per poi riprendere lentamente questa ripresa e così il ciclo si ripete più o meno all'infinito In questo momento, a seconda delle persone e delle opinioni, tutti vi diranno che siamo o nel bel mezzo del crollo o nella fase terminale del crollo Comunque, dobbiamo prepararci a vedere cosa accadrà nella prossima fase di espansione quindi quando il ciclo inizierà a riprendersi E quindi bisogna farsi una domanda fondamentale Quali sono i settori e le aziende che andranno meglio in questa fase iniziale di ripresa dell'economia? Beh, oggi vi voglio raccontare la mia, ma ne parliamo dopo la sigla Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video e oggi vi voglio parlare di alcuni settori che mi sono segnato, su cui ho fatto un po' di ricerche che secondo me cresceranno moltissimo all'inizio di questa ripresa economica E no, non sto parlando di cose come cloud, servizi online, vendite online perché quelle sono cose che sì, stanno andando bene, ma stanno andando bene adesso e quindi fondamentalmente da investitori possiamo farci ben poco perché sono tutte aziende che stanno già scontando un potenziale ricavo futuro Proviamo un attimo a chiederci quali sono invece le aziende che adesso stanno andando abbastanza male ma che realisticamente in un futuro più o meno prossimo potrebbero andare bene Iniziamo quindi con qualcosa di facile, qualcosa di comprensibile anche a chi ha iniziato da poco ad investire La ristorazione veloce In questo momento praticamente tutto il mondo è costretto a casa quindi questo è un settore che è crollato, è collassato perché tutti i ristoranti, tutti i fast food sono vuoti totalmente vuoti, non c'è nessuno in giro Abbiamo appena visto ad esempio McDonald's che ha avuto un primo trimestre veramente pessimo rispetto all'anno scorso ed è normale, ripeto, i negozi e i ristoranti sono vuoti Tuttavia dubito che una volta finita questa emergenza sanitaria non si riprenderà con le vecchie abitudini Vecchie abitudini che, se andiamo a vedere com'era la situazione l'anno scorso, erano molto semplici e molto lineari Una ristorazione veloce, quindi fast food e anche consegna a domicilio, se vogliamo chiamarla così che cresceva anche abbastanza a un ritmo sostenuto e una ristorazione lenta, quindi i classici ristoranti di medio livello che erano in calo Aziende quindi come McDonald's, Starbucks, Dunkin', Burger King in questo momento hanno perso tantissimo in borsa e sì, alcune stanno iniziando a recuperare ma ancora non siamo secondo me a dei livelli che riflettono il potenziale di crescita che avranno una volta finito tutto ciò Andiamo avanti e passiamo a un settore che farà numeri fantastici una volta finito tutto ciò o meglio, inizierà piano piano a farli, che è già comunque qualcosa Il settore sanitario, perché dico che inizierà a farli e non li sta già facendo? Alcuni potrebbero dire ma il settore sanitario sta già andando bene, si continuano a vendere farmaci gli ospedali sono pieni, anche se è una cosa in realtà drammatica ma dal punto di vista dei ricavi già ci siamo, quindi cosa dovrebbe cambiare? Nonostante io pensi che realmente non cambierà moltissimo nel mondo post epidemia inizio anche a pensare che il mondo sanitario nel suo insieme verrà rivisto abbastanza quindi ci saranno molti più soldi per la ricerca, si farà molta più prevenzione o almeno questo è quello che penso io di conseguenza il settore farmaceutico, assicurativo e in realtà anche quello ospedaliero e di assistenza agli anziani, perché ricordiamo quello è qualcosa che è in crescita praticamente da sempre e lo sarà per altri decenni molto probabilmente continuerà a crescere forse a un ritmo anche un po' più alto proprio perché ci sarà una maggiore sensibilizzazione e ci sarà quindi più disponibilità a spendere Terzo settore di cui vi parlo oggi è energetico Prima di tutto metto le mani avanti perché questo è un settore particolarmente complesso e io ne so abbastanza e non tanto di questo settore quindi prendete quelle cose che sto dicendo con le pinze in questo momento il grandissimo problema del settore energetico è che non c'è domanda quindi non ci sono aziende o industrie, fabbriche che hanno bisogno di energia per produrre perché quasi tutto è fermo la Cina piano piano sta ripartendo ha già iniziato a fare dei pesanti acquisti in petrolio ad esempio ma ancora siamo lontani dal poter parlare di una ripresa tuttavia è innegabile che questa ripresa prima o poi arriverà è difficile sapere quando però se guardiamo ad esempio la Cina e immaginiamo le tempistiche per il resto del mondo è possibile che questa ripresa arrivi nell'arco di mesi quindi non certamente anni in questo momento vedo il petrolio ben posizionato perché comunque continua a essere una quota rilevante dell'energia che viene utilizzata tutti i giorni e in tutto il mondo però anche le rinnovabili non sono da sottovalutare in questo momento le rinnovabili sono andate giù fondamentalmente per due motivi uno perché anche il petrolio è andato giù e quindi è diventato più conveniente e due come abbiamo detto prima per la domanda ma di nuovo le rinnovabili secondo me sono un punto interessante occhio alle valutazioni perché ancora ci sono delle aziende che operano il solare che sono dei livelli folli se volete però documentarvi su questa cosa vi lascio qui in alto un video dove ho parlato del solare lì ero andato un po' più nel dettaglio continuiamo con un classico dico classico perché è uno dei settori che di solito è tra i primi a riprendersi il settore finanziario e con finanziario intendo quindi assicurativo, bancario e ad esempio per quello che riguarda i servizi di pagamento durante una ripresa c'è bisogno di denaro e di prestiti perché le aziende sono appunto più fiduciose e sono pronte a rischiare quindi a investire capitale in parte proprio e in parte degli istituti finanziari per appunto provare a crescere, a fare dei progetti di stampo imprenditoriale in questo momento tutte le aziende invece non hanno fiducia quindi è perfettamente normale che tutto il settore bancario ad esempio sia crollato ma di nuovo nel momento in cui dovesse esserci una ripresa questi saranno tra i primi titoli a schizzare in alto almeno questa è la mia opinione e se andiamo a vedere in realtà il passato beh tendenzialmente il settore bancario o comunque finanziario nel suo insieme era tra uno dei settori che comunque performava meglio all'inizio di una ripresa attenzione però quando si parla di banche perché devono essere banche solide, stabili e non delle banchette di quartiere che secondo me sono da trascurare e non da avere in portafoglio stesso discorso ad esempio per i servizi di pagamento quindi emittenti di carte di credito, Mastercard, Visa, Nexi che in questo momento hanno visto chiaramente un calo del fatturato perché la gente non esce più e quindi non può più usare la carta lo può fare su internet e infatti rispetto ad altre aziende sono scese molto meno però comunque vedranno un calo nei propri fatturati calo che però si riprenderà abbastanza velocemente secondo me prossimo settore industria ma industria pensata per le aziende quindi industrie che producono per altre industrie quello che comunemente viene detto B2B quando la produzione riparte infatti si riparte proprio dall'industria non dai servizi, da cose di questo tipo ma dall'industria perché sono aziende che hanno degli imprenditori a capo e quindi ci vedono lungo, iniziano a capire prima quando potrebbe essere il periodo per iniziare ad investire e quindi ecco che partono i primi ordinativi di prodotti, di merci, di macchinari cose di questo tipo aziende quindi che creano prodotti prettamente o principalmente per altre aziende secondo me andranno molto bene e guideranno secondo me la ripresa economica giusto per fare due nomi così ci intendiamo CNH, IMA, General Electric, 3M aziende di questo tipo quindi aziende che producono prevalentemente per altre aziende e non per il pubblico finale che invece potrebbe tardare un pochino a riprendersi e a iniziare a spendere come prima ultimo settore abbastanza legato al precedente e ve lo dico tra questi il più rischioso perché non sappiamo alcune cose sto parlando del settore dei trasporti ma non trasporti di persone quindi turismo ma trasporti di merci o di cose quindi trasporto su strada, su rotaia, via aerea, via nave tutto ciò che può essere utile alle aziende per muovere prodotti aziende quindi di logistica, di spedizioni che si occupano ad esempio di gestire magazzini ecco tutto ciò secondo me andrà abbastanza bene ma di nuovo qual è l'incognita? non sappiamo quanto velocemente verranno messe giù queste barriere che al momento quasi tutti gli stati stanno alzando pensate a tutti i voli sospesi a un sacco di spedizioni cancellate cose di questo tipo quindi l'ho voluto mettere per ultimo proprio per fare questo discorso ovvero attenzione perché tipicamente il settore dei trasporti è un settore che guida ma occhio perché in questo caso potrebbe non essere così lasciate un like se questo video vi è piaciuto e ricordatevi che tutte quelle cose che vi ho detto sono la mia opinione io non prevedo il futuro se prevedessi il futuro sarei ricchissimo e farei video probabilmente su una spiaggia con una Lamborghini di fianco e cose di questo tipo no probabilmente non lo farei non è che non mi piacciono le Lamborghini però boh non spenderei tutti quei soldi comunque discorsi a parte lasciate anche un commento se avete qualcosa da dire qualche domanda da fare e seguitemi su Instagram vi lascio il profilo qui in alto quindi seguitemi seguitemi cioè dovete seguirmi per questo video è davvero tutto io vi saluto e alla prossima I'm gonna throw my memories away now I feel undone and I am cursed by every day till my time is gone